Eccola qua Sì, ma non è neanche in ritardo Sì, ma non è neanche in ritardo Sì, ma perché ho la bussola rossa? Sì, ma non è neanche in ritardo Sì, ma non è neanche in ritardo Sì, ma non è neanche in ritardo Non sento niente io No, non sono più in ritardo La bussola rossa io Adesso ho inizio un volo tattico C'è quello che vuole Sì. Grazie. 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 Tempo d'arrivo stimato... ...e minuti. 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 andiamo con due barche qui una sola una vado in testa ma tu che belli ma tu che belli non l'abbiamo messo una volta però si 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 ricevuto riferisco al comando comando Spier3 riferisce aver trovato informazioni sul luogo convenuto e riferite a un porto comunico Spier3 qui Spier1 il comando riferisce di fare con il proprio foto delle informazioni e inviarti al comando missioni qui va Sì Spier2 qui Spier1 rapporto di situazione Spier2 Spier2 qui Spier1 rapporto di situazione non ho io l'ho messa ricotta ragazzi ricotta notte di giù di giù spier2 no no spier3 spier3 la prima pagina se non mi sbaglio patrito dico ma perché non è ancora notte marco non è ancora buio pesto sia prima pagina in fondo sopra social e bivacchi l'ultima voce di tattica adesso c'è la luna per quello siamo proprio sotto la luce della luna c'è una piena no è notte è notte ragazzi sì sì è notte è notte io sì sì è notte Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. Vedo anche l'altro tango a nord. Aspetto a noi. 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 Sulla piattaforma verso est. No. Aspetto a noi. 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 Mi vedi verso destra? No Io sono a nord Adesso è fermo davanti a me Ce l'ho a ovest Io ne ho uno qua Target alpha Qui è tranquillo Qui è qua Al tuo verde Fury Obiettivo eliminato Roger anche qui nessun contatto Avanti Ci muoviamo? Roger anche qui niente Ok mi vento Fury mi sa che abbiamo un lupo sopra di noi Perché se Ok siamo Ok Ho trovato un cadavere Siamo in arrivo Sulla passerella est E' il lupo E' il lupo lì che ho visto Ha visto il cadavere Ce l'ho avuto Ce l'ho avuto Sento qualcuno Che ci sta osservando Una brutta sensazione Che non siamo su Lato ovest Sembra che non ci sia ancora nessuno Fiori Siamo in arrivo Alla Alla pedana est Ok il nuoto affiorato Occhio che c'è un lupo sopra le scale Hai visto? No Direzione nord est Piano elevato 36 metri Vedi? Negativo Sto mirando Non lo vedi Si è nascosto dietro La scala C'è dietro la scala Dietro Dietro non riguarda Adesso Porca miseria A terra Sto arrivando L'altro lupo ragazzi Vedo Vedo la torcia Si si Dove? Vedo che è sopra di voi Ho visto la torcia lì Quindi in alto Controllate le vostre zone Trovate gli stili Fiori sono ancora in posizione Sto controllando dove ho fatto fuori il tango Le due rampe di scale Con la destra Con la sinistra Butta di in acqua Marese Butta di in acqua Andiamo un attimo via da qui Allerta E' passata Noto furtivo Ok Cominciamo a salire la scala In direzione nord-ovest Ti vedo Fiori Se l'avanti a mano Ok Io copro Ovest Standby che devo Attenzione sto con un attimo Se c'è qualcuno Ok Così Ho tolto l'audio Perché così Ci sentiamo meglio Allora Ok Saliamo Ok Movimento Vado su Salgo su Vado io Vado io Vado vado Salgo Ok Salgo Sì sì Sono in posizione Vai che ti copro Vedo la squadra Sì valla Ma veramente Vado a sinistra Vado a sinistra Da dove siamo noi Fiori dovrebbe essere libero Non vedo Altri Sinistra libero Amorio Che bella Sì Tango sulle scale Tango sulle scale Sopra di noi Invisuale No no Si è spostato Si è spostato In direzione A sud Rispetto a te Ti copro La passerella Alla tua Alla tua sinistra Team 2 Alla scaletta A est Sì Ti copro Ok Ok allora saliamo anche noi A livello Terzo piano Ci è avuto Sali sono in copertura Giù Ok Ok Ricopro sempre la passerella Sento voci però verso il nord est Lupo Tango Sono tutti sopra di noi eh Fiori Libertà di Chiedo Chiedo Permesso di Abbattere Stand by Abbiamo fuoco libero Tango a terra Attenzione torretta automatica Eliminala 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 Disattivarla Pericolo immediato Fermati Oh porca miseria Due tango davanti Vai Esegui 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 Vicino Disattivo torretta Tango davanti a me Tango davanti a me Stand by Stand by Esegui 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 Perché non mi spara Mi si è bloccato ragazzi Non mi spara Mannaggia Vai Arrivo Sono di autorità E' disattivata la torretta? Si è disattivata Disattivata Torretta automatica Disattivata Ehm Siamo in procinto Di entrare Nella sala L'edificio Con la parabola Ho detto Saliamo al terzo piano Ok Allora torniamo giù Arriviamo noi Arriviamo noi Vai 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 Fiori Io ti copro dal Dal basso Tango in arrivo da Sud est La direzione Stai basso Lo vedo Proviamo ad andare a staccare le luci Assa Salgo 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 Sono su Si Copro io Comando Comando Generatore Che so Che so Che so Che so Chiarate Tango a terra Dove dove Ottimo Aspetta che se riusciamo A fare il giro No da qua no Da qua non vedo niente Non lo vedo Tango in arrivo Aspetta Ecco visto visto Direzione Direzione nord-ovest Provate quei bastardi Aspetta Ma vi stanno sparando Stefano A terra No no Abbiamo battuto Di agronautonese Tango a terra Cioè non potevamo avere un nemico Un lupo C'è quattro piazzato Ripeto C'è quattro piazzato Sull'antenna Ok C'è quattro piazzato Sul generatore Disattivato Ok Lo piazzo io Fatto tu Ok Perfetto Muoviamo vostra posizione Direzione nord-ovest Nord-est Eh fiori Vedo Dei bomboloni Molto probabilmente infiammabili Io direi di piazzargli Un panetto Dei C4 Anche qua C'è Quello lì Che ho pingato Davanti a noi Vado Ho ricevuto Allora io e Malese Facciamo C4 Piazzato La piattaforma Ci sono Sono dietro L'Italia Ok Andiamo a piazzare Ok Ok Piazzo anche qua Che vedo Che è un Pannello Di No Eh Lo piazziamo Qua che dove sono i tubi Fiori Piazzato Saliamo Sì Ok Siamo qua tutti Sì Sì lo so Allora Uno C4 Piazzato C4 Piazzato No no Sono qua Entrasi Lo scuola Alle basi Proprio E C4 Piazzato Malese Malese La situazione Tutto libero Ok Sono sotto La gru Sto Facendo la ronda Sotto la gru Sì Sì Spettacolo Siamo pronti Per la fase 2 Ma c'è qualche torretta? E' intanto E' disattivata E' disattivata Col Col Generatore Serve C4 Sua trivella Posso mettere Questo sotto No C4 È stato Piazzato Sì L'ho Piazzato Io Ok Tutti Gli obiettivi Sono stati Minati Non so che Intanto Non so che fare Prendo i cadaveri Li butto a mare No? Allora Li metto vicino Agli esplosivi Ok Ok Ti seguo Allora Vi 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 recupero quale quella a nord ovest no qui c'è un vestito dove lo trovo aspetta non voglio andare via senza dimmi dov'è spettro dopo e qui guarda fiori si è a posto è messo tu il 5 non lo vedo come mai si ce l'ho preso vado a prendermi sto vestitino qui alla mia posizione secondo piano secondo piano arrivo rio sensore del ballo vabbè ma dov'essere investito ah no ce l'ho preso io ok sfiltriamo però ragazzi vedo anche 1 un'altra cassa di vestiti e 2 casse di sky credit un 5.000 sky credit e un occhiale che non me ne vado senza io ve lo dico sugli oclei vesi prima si oclei halo si ok prendeteli perchè io non vedo più ok ok i sky credit son giu si e l'altra cassa deve essere in giro qua l'altra cassa deve essere all'altra parte dove siamo noi mi sa che è sua eh mi sa che è sua eh aspettate un attimo è sotto? le scale si ragazzi 10.000 sky credit mai presi 10.000? e dove sono? qua ah non me ne vado senza andiamo qua si si tutto tutto no sono quegli occhielli lì che non trovo la cassa però ragazzi ah ok e quindi giu invece mi hai detto mano i 10.000? qua ok tutto giu allora perfetto l'ho già presi wow ehi non vedo quanto e la parabola è la parabola è su delta? ok ok io vado a prendere sti occhiali ok si non abbiamo fatto foto? ok 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 io sono ok ok già al punto di rifiutere quella copertura sulla barca ok quanto sento gli altri manca lo 2005 che sono in basso in basso perfetto arrivo sei che ci sono tutte le notizie da spear 2 e stand by april canale stanno mandando materiale no spiare 2 qui spiare 1 avanti che anni sono qua chiedo confermare comando comando spiare 2 comunica che la squadra è stata eliminata chiedono raguagli spiare 2 comando chiede se avete piazzato c4 sono qua la passerella io dove siete ok arrivo no erano in perlustrazione comando allora spiare 2 comunica che hanno le informazioni che hanno recuperato su la nostra demanda dal comando missione avevano recuperato tutte le informazioni su tutti i target si stavano approcciando ma sono stati ingaggiati e sopraffatti come che cosa hai dico le faccio continuare un'operazione o fanno dell'altro ok comunico spear 2 comando comunica che se volete potete continuare con l'operazione ripeto comando comunica che se volete potete continuare l'operazione questa volta direttamente con l'eliminazione dei bersagli visto che la perlustrazione è già stata fatta chiudo avanti anche voi raguagli comunico allora comando comunico si comunico comando comando spear 3 comunica comando comando ok comando spear 3 comunica che il bersaglio il loro bersaglio primario è stato eliminato ma sono stati sovraffatti dalla dai nemici e anche loro chiedono raguagli comunque il bersaglio è stato eliminato gli dico di stare in stand by sulla spear 3 spear 3 qui spear 1 comando comunica di stare in stand by in attesa di in attesa di informazioni adesso controlla le informazioni ricevute e elabora ok wow 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 dimmi tu sono io al volante spero che si sia vista bene l'esplosione eh no perchè eravamo tutti dietro eravamo dietro giù infatti ho inquadrato ok il punto di toglietelo eh non l'ho messo io non so aspetta che guardo no ok direzione allora direzione nord nord adesso nord ovest elicottero elicottero eh c'è un mistico aspetta via 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 eh non riesco a sparare eh devi muoverti devi muoverti verso la sinistra perchè altrimenti ti mi cancelli laser e mi cancellissimi abbattetelo ragazzi ora andiamo sulla terraferma allora andiamo verso la terraferma 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 direzione sud piattaforma ok ritorniamo indietro allora ce l'abbiamo in coda eh intendo a sparare due missili esatto presidi così non darvi il bersaglio guarda la piattaforma eh ok vacci dentro vacci dentro che ci mettiamo in mare dentro 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 così ok fuori l'acqua se ne va se ne va se ne va ah no ok non mi fa salire non mi fa salire non riesco a dire ragazzi ma fa salire ma fa salire sembra Bagdad sembra coi traccianti hm si coi traccianti si peso no 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 perché non mi fa salire ah no 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 si no che JTAC E se riesco Allerta gialla Allerta gialla mi sa che ci ha perso di vista Non sento più Manu però Manu Ci sono ci sono Ok Non sentivo più No 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 non andare in un'imbarcazione perchè sta 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 girando Provo a salire un pelo per vedere se Lo riesco Vado io vado io su Vado io su Fiori Eh Io non lo vedo più lo vedete? E io ancora la bussola rossa Si si eccolo Direzione sud Dov'è? Sud Eccolo eccolo l'ho visto l'ho visto Marcato come marker alfa Ok Bisogna Bisogna salire Però non posso salire se vuoi io vi seguo ma Salo Salgo Dicevuto Se li fa il giro così lo abbatto col razzo Se li fa il giro lo abbatto col razzo Se li fa il giro lo abbatto col razzo L'ho perso L'ho perso Vedo più Dal E' andato è andato Bussola bianca io Allerta è andato Non so voi E' ancora rossa E' ancora in alto E' ancora in alto Oh la mia bianca E' identificata ancora come marker alfa ragazzi che ce l'abbiamo sopra Ah eccolo lì Dov'è? E' sopra di noi Ma io non lo vedo porca miseria Sopra qua Ultimo piano Eccolo qua giallo adesso Si E' Ciuri vado su? Provo a batterlo Arrivo Ok Sono qua io eh Ce l'ho ce l'ho E via Sto aspettando come ha goto letto Confermo a battimento elicottero Spero che si sia visto in diretto Poco poco si Poco poco si Ok C'è stata una ballata che piccina mille Eccolo Ok Sono a bordo Eccolo C'è stata una ballata Raya Faccio una spinta che comandante Forse ce la posso fare No No Ce la facciamo Ce la facciamo secondo me Molto lentamente ma ce la facciamo Eh no E' secondo me Si 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 Dici no Manu? Mmm No anche secondo me La vedo dura eh E invece Arrivata l'Alpa Mi viene in mente la musica dei film di Chuck Norris Delta Forza Un attimo lavoro Un attimo lavoro comunque Eh si ben giocato Ben giocato Si Eh Così C'è Non E' C'è I Non E' 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 Non E' Non Comunico spierterai? Perà la ràpia giù un politician non c'e l'unica si tratta di un mercato non c'e più di un settembre Raccè! Con un culto E' un po' l'unico Allì i bertiglioni di famiglia da rimai l'anghi Ah, dove stavano via l'anghi Loro no Spiar 3, mi ricevi? Allora, nuove informazioni dal comando missione Allora, visto che avete eliminato tutto Potete, nella zona di appartenenza di missione Eliminare tutti gli apparati radio che ci sono lì presenti E poi Adesso il pilone vi fornirà la posizione di un altro clip da illuminare E' chiaro? Allora Ripeto Di dove siete, nella base dove eravate, ci sono degli apparecchi radio Ok Vanno eliminati Una volta fatto questo Il comando missione Vi sta mandando, vi manderà La posizione Con eventuali foto e quant'altro Di un Di un dipeda eliminare Di un altro dipeda eliminare Catturare Catturare, ripeto Catturare Ripeda catturare Non eliminare Allora Guarda se Guarda se Guarda se Allora L'informazione che vi è arrivata E' dove dovete calciare il bersaglio vi ricordo che eravate prima i ragazzi ci vedo un genio di radio che vanno illuminati quando fatti brillare ecco il comando mi chiedo che sia una missione gialla dove ci sono gli apparecchi radio da eliminare chiedono se è la missione gialla quella dove ci sono gli apparecchi radio da eliminare era quella che stavano facendo prima ah ho capito eh sì perché vedo che l'elicottero non c'è più esatto setup missione di urna ok eh scusa multicam aor2 no? ah ok quindi aor2 giusto? ciao ciao visore mi mancherai si aspetta un secondo un attimo solo che sto stand by sky 3 che sto stiamo vivendo altre nuove informazioni eh fiori il colpetto verde oliva ah ok ok cappello sempre or2 ok ok si sila viso coperto o scoperto? avanti 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 ok ok copri cavo scusa ricevi? ehm riferisco romando spier3 che riferisce che prima di essere sopraffatti avevano già eliminato il il generatore e gli apparati elettronici questo non lo sapevo non lo sapevo e recuperare il VIP allora spier3 spier3 e qui spier1 allora vi confermo che il vostro nuovo obiettivo è dirigervi all'avamposto Fox1 recuperare ripeto recuperare il VIP e portarlo a Ironwood chiudo spier2 spier2 e qui spier1 ragguaglio situazione ma faccio anch'io fumo fumo no fumo e se a quale il bivaco si 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 chiama l'asciuto bella bella soprattutto il setup mi è piaciuto si ecco spier2 spier2 e qui spier1 mi ricevi ci sono Dove andiamo adesso Fiori? Comunque informazioni non ne ho viste io, non so se ne avete viste voi. No, non ce n'erano, non ce n'erano. Ragazzi arrivo subito, un secondo. No, non ce n'erano. No, non ce n'erano. No, non ce n'erano. Ah, ma avete visto che possiamo condividerci gli oggetti, ragazzi, nel bivacco? Come possiamo condividerci gli oggetti? Adesso ti faccio vedere. Allora, se tu vai dove ci sono i nomi in alto a destra, nel bivacco. Ah, ma vero, condividi oggetti. Condividi oggetti, quindi se per dirti tu non hai le reazioni o il medikit, me lo dici, te ne mando. Figo. Ma prima non si poteva fa' No. No. Eccomi. Io ci sono, sono operativo. Si. 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 Dove sono? Ok. Ok. Non vedo. Armamento. Setup. Lasciamo questi? Si. No, 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 armamento nel senso. Ok. C'abbiamo gli zaini, ci possiamo sempre, ci possiamo sempre cambiare. Eh, si. No, quello no, però deve, no, ci mettiamo magari il visore notturno, che ne so, comunque. Si. Quindi mettiamolo il metodo? Ok. 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 ok eh Fiori scusa il metto il verde olivo ha fatto anche il metto ma lì sei pronto svuot pronto svectro è pronto svectro è la diretta si vede bene e non sto guardando comunque e adesso tanta roba non sai tu che lo sto guardando e non so io non posso perfetto è una fassale di qua 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 no fatti più indietro prova a farti più indietro aspetta così no prova a farti più indietro facciamo così dai dai facciamo due a due ok ok Grazie a tutti. Grazie a tutti. L'unio si rallenta perché ti sto sulla scia. Grazie a tutti. 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 Però... Grazie a tutti. Ti seguo. Grazie a tutti. Ti copro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Posizione? Dove siete? Ok, perfetto. Aspetta che... mette in posizione. Sì, ce l'ho in visual. Si, l'ho in visual. Aspetta... su obiettivo. alfa. Aspetta, lo vedo. Aspetta, lo vedo. Lo vedo, lo vedo. negativo. hai ragione. ma lei se... io mi tolgo. il punto B perché... mi è andato... mi è andato... tango in usita. a terra. lo vedo. aspetta, si sposta, si sposta, si sposta, si sposta. no, no, no. no, no, no. no, 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 no. attenzione che potrebbe... saliamo su... attesto, ragazzi. struttura libera. struttura libera. dal mio lato... sinistro. ok, ok, perfetto. sono state qua. attenzione... occhio. teniamo la scala. con la scala. lascio... di kit. no, 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 no. sono posto. con la scala. con la scala... sento passi... con la scala... la cisterna è minata. con la scala... lupo... l'avete eliminato... si, ok. niente, la luce... non si vuole... quando mi ha colpito... sono andato... terra... nemico... arrivo... vai... no, serve... l'altro... calma... allora... mino... ripeto... granata... non risponde... manu... medico... ok... prendilo... guarda... provo... ... medico... in posizione... ma... qui... su... 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 ... qui... ... ci siete... si... ok... comunico... con... ... ... sento... sento... su... ... su... ... ... ... su... ... su... ...... ...... ...... ... ... ...... ...... ...... ...... ... ...... ...... ...... ... ...... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ...... ... ...... ... ... ... ... ... ...... ...... ...... bene, altrimenti non siamo un'altra volta comunque, comunque da aspettarci ok, se è fuori da aspettarci che facciamo un debriefing stiamo, stiamo tornando siamo inito in una direzione alla prima io direi di dire che andare qua e che mi riportere capiva quindi sud-ovest avanti copiato faccio una cosa faccio la DRF chi è che ha abbandonato? Manu? no, ne vedo tre mi sono spostato faccio la DRF state lì, vi vengono tornando in mezzo al mare ah, ok a fare una cosa andate piano non andate a manetta così ho il tempo da arrivare no, ho capito cosa vuoi fare cosa hai capito? forse ho capito spettacolo spettacolo Marco sincero eh fidati deve essere un casino sì sì ma sta funzionando bene guarda sta funzionando molto bene ma molto bene beh ho visto beh ho visto il pezzo il pezzo il pezzo dell'ingaggio è stato è stato bello eh mi spiace non avervi dato la mano eh sì eh sì eh è stato bello sì 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 sono bianco di ottenere botta eh spiaruno qrf in arrivo in vostra posizione comunicate eh luce accesa sì 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 ma è comunque la missione della la piattaforma secondo me ma che sta scherzando io è un mese che aspetto di fare la piattaforma ma ti sta scherzando quella è tanta roba è un mese che sta aspettando la piattaforma lì ho fatto la vita eh io ce la volevo fare quando il ride era chiuso e ti ho detto entriamo a fare il ride sti cazzi di ride facciamo solo quello ok tolgo il punto qui ci incontriamo lì sì così quindi non sai tu che la stai guardando male squadra Spear al di la 1 in arrivo verso la nostra posizione c'è uno fisso che ci sta guardando la diretta che sono due 10 vutos per due siamo siamo in arrivo con il rivolto è bezza eh beh eh si 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 ho visto ce n'è uno che ha preso PS5 e U75 pollici ce l'avrà pagato una fucilata squadra Spear 1 mi vedete su un'arpa grande vedete il transponder eh Fiori fai te che io sto guidando ok accendo le luci eh no no Spear 2 comunicazione fraintesa stavo stavo parlando col team lo vedo lo vedo lo vedo lo vedo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, si è sotto l'Italia adesso. Boom. It's what a bordo. No. 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 Cavolo è riuscita anche bene. No. E' lo salito il primo colpo. E' la colpa è tua stessa. Perché? Ah, perché ho fatto troppo peggio da una palla. Cioè, aspettate un fiorito. Eh, perché sono salito subito. Ok, vai. Partito. Ci sono. Mancale. 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 Vieni davanti, vieni davanti della... del muroscaffro. Finché non viene bene sta cosa... no. 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 Non se ne vado. Non se ne vado. No. Non capisco. Inabbissato così. Sì. L'ho affrontato... A cavolo di... Ma non so come mai si è... No. Ci sono parte della impagazione... IniziaMANPLPA offers... Nasi inizia... 少i nuco ... Nasi a riunire... Vieni ... Amplo vento verso il chỗ... 학ير... Automata... Ma non sa fare... L'ho affrontato... D'acharcato, Moira- señale.... Omкра... Dov'è? Dove siete? Vedete i traccianti? No Sto andando veramente una cieca Sì Sì, quasi Ale Ok, vedo spari Sì, siamo noi Si è fatta l'alba, abbiamo fatto notte sulla barca Devi scendere un pelino ancora, insomma Vai, vai, vai Vai ancora Oh Su, sono su Ok 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 Delta Delta Ok Il tutto questo è trasmesso in altissima definizione Eh sì, speriamo che sia venuta bene, io non l'ho ancora vista Guarda c'è l'alba in direzione nord Sì Siamo 10 km di verità Un attimo l'audio a tutti È fluidissimo Ale Da telefono è veramente spettacolare Sì, sì, sì E poi così Quando facciamo quella cosa la La scarica La scarica da computer e poi la Sì Ma guarda io ti dico Io ho la pausa pranzo lunedì da luna alle due Ok, se vuoi La luna alle due Io se sono in ufficio dello del mio e mezzo E facciamo il verso del mio e mezzo Perfetto, perfetto Che tanto sono ancora sui mesi Perché tanto mi devi dire il codice che ti contai La mail che ti conferma codice sicurezza Solo che invece che evitare tu di dirmela a me Sì, infatti ho dovuto farlo anche io quando quando ho riscaricato l'app sull'assessore io devo fare se cosa e io purtroppo il pc la missione un'altra definizione veramente dirà, ci dicono ma siete su pc guarda ti dico la verità una volta guarda con l'erba sembrava la magia è vero Manu? si e io poi da stasera sto vedendo un altro mondo un altro gioco secondo me te stai infatti te secondo me non stai venendo ancora meglio di me eh sto vedendo tutto un altro gioco stasera eh ma tranquillo che ci arrivo anch'io cambia da sera la mattina si si eh beh immagino siamo in arrivo aereo ok 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.